Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E subito in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Autorità portuale regionale, approvato il bilancio d'esercizio 2021. Martirreno settentrionale, alvia il documento di programmazione strategica di sistema. Aree interne, ripristinare i fondi per i comuni sotto i 1000 abitanti. Tutto pronto per la ventunesima edizione della Bacialla Bike. Via libera dall'aula di Palazzo del Pegaso al bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale. Il Consiglio regionale ha approvato il documento con 21 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva e 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. E' importante che oggi sia stato approvato a maggioranza il bilancio dell'autorità portuale che è una dimostrazione di fiducia e di conferma per il lavoro che sta facendo, che è un lavoro molto importante sia per quello che riguarda gli interventi che l'autorità portuale sta facendo per liberare dall'insabbiamento il porto di Viareggio, sia per quello che riguarda la dimensione e la prospettiva strategica di conferma che è il ruolo dell'autorità portuale nei quattro porti in cui si sviluppa, quello di Viareggio ma anche quello dell'Isola del Giglio, all'Argentario a Porto Santo Stefano, nell'Isola d'Elba a Marina di Campo, un lavoro molto importante a dimostrazione di quanto la regione toscana è attenta allo sviluppo e all'attività dei suoi porti. Ritengo che chi dice che non c'è bisogno dell'autorità portuale un po' si dimentichi delle difficoltà, dei problemi, anche delle situazioni di mala gestione che si creavano quando non vi era l'autorità portuale segnatamente allora nel comune di Viareggio. L'autorità portuale ha oggi anche la gestione, sta andando avanti il progetto per il sabbiodotto, si tratta complessivamente di 7 milioni di euro che abbiamo messo come regione toscana per poter dare una struttura permanente che tenga costantemente libero l'ingresso e l'uscita per le attività dei pescatori, per le attività del cantiere, per le attività del turismo da diporto. E sotto questo aspetto quindi è una buona notizia l'approvazione del bilancio. La consigliera del Partito Democratico Valentina Mercanti interviene, così come fatto dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio Lucia De Robertis durante la presentazione dell'atto sul ritardo con cui è stato approvato il bilancio che si riferisce al 2021. C'è assolutamente troppo ritardo e su questo dobbiamo lavorare perché i bilanci devono essere portati nell'anno corrente come è giusto e corretto che sia. Quindi lo abbiamo approvato però faccio un appello che si cominci ad accelerare per portare i bilanci poi nell'anno corrente come è corretto e come peraltro le leggi richiedono. Essendo un bilancio 2021 diciamo non è in linea con gli interventi programmatiche, erano previsti anche nel nostro bilancio regionale, non solo dell'autorità. Ieri in aula ovviamente è venuto fuori il tema del porto di Viareggio su cui la Regione sta facendo importanti investimenti, penso 6 milioni sul sabbio d'otto ma non solo, c'è tutto il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. È di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione fra Enti, la Regione, l'autorità portuale e il Comune di Viareggio. Stiamo lavorando in questo senso perché il porto di Viareggio ricordo è importantissimo non solo da un punto di vista turistico, i cantieri navali, ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana. Non la possiamo trascurare, il porto deve essere messo in sicurezza, anche se ricordo, lo ricordava ieri anche l'opposizione, questi sono problemi che ci portiamo dietro da oltre 100 anni. Io credo che in questi tre anni si sia fatto molto, c'è da fare ovviamente ancora di più ma la strada credo sia quella giusta. Un bilancio che arriva all'attenzione dell'Aula nel 2024. Quando si parla di un bilancio 2021 è ovvio che di per sé vale la motivazione della bocciatura del bilancio. Però è stato importante il dibattito perché a seguito dell'intervento proprio del Presidente Gianni che ha ribadito l'importanza dell'autorità portuale regionale, tema sul quale anche noi del gruppo della Lega, sia a Biareggio, sia qui in Consiglio regionale, sia un po' a tutti i livelli, abbiamo anche noi consapevolezza della strategicità di questo istituto, di questo ente, che porta tante risorse economiche a tutti i porti di autorità, ma in particolar modo a Biareggio, e che giustamente, come abbiamo sollevato da parte di tutti, è nata da un accordo all'unanimità nel 2012 ed è nata perché prima del 2012 il problema della gestione dell'insabbiamento e delle risorse per l'insabbiamento del porto di Biareggio era una problematica molto ma molto complessa e che aveva dato adito a parecchie problematiche. Quindi bene questo aspetto di conferma, di sostegno all'autorità portuale da parte del Presidente Gianni, al quale però ho fatto presente che a Biareggio c'è un sindaco e un'amministrazione che addirittura promuovono e fanno approvare una mozione che chiede la cancellazione dell'autorità portuale e c'è una situazione, quello il Presidente Gianni non l'ha detto ma gliel'ho ricordato, dove abbiamo ancora una carenza del ruolo di segretario dell'autorità portuale che è il motivo messo per scritto dallo stesso commissario attuale per cui i ritardi di questa autorità portuale di difficoltà sicuramente concorre. Noi abbiamo votato contro al bilancio dell'autorità portuale perché come avete ricordato si tratta del consuntivo 2021. Votarlo nel 2024 evidenzia c'è un problema ormai patologico all'interno della regione toscana per cui c'è una differenza sostanziale fra la programmazione della regione e la programmazione e l'indirizzo e il controllo che il Consiglio deve fare sui conti e sui numeri degli enti e delle società partecipate. È un atteggiamento che noi stigmatizziamo ormai da tempo, abbiamo chiesto più volte al Presidente Gianni e abbiamo proposto e gli altri commissari della Commissione Ambiente l'hanno sottoscritto quindi anche la maggioranza di riallineare per quanto possibile l'andamento del bilancio della regione con quello degli enti e delle società partecipate perché altrimenti il Consiglio regionale non è nelle condizioni naturalmente né di dare degli indirizzi cogenti né tantomeno di verificare come vengono spesi i soldi dei toscani. Il consigliere di Fratelli d'Italia ha posto poi l'accento sul tema del sabbiodotto. Abbiamo ricordato in aula il Presidente Gianni richiamando anche i comunicati stampa del 2016 e del 2020 che il sabbiodotto avrebbe già dovuto essere realizzato. In realtà siamo in ritardo di molto e i soldi che sono stati necessari per intervenire dopo le mareggiate con il dragaggio straordinario, ricordiamo i pescherecci si sono arenati con gravi rischi per le persone soprattutto con il blocco dell'attività economica, sono stati pagati addirittura imputando una parte dell'utile del 2021 come se quei soldi fossero rimasti congelati per tre anni. È un modo di gestire la finanza pubblica che non ci soddisfa e soprattutto ne risentiranno gli investimenti sugli altri porti perché i soldi mancanti per il dragaggio straordinario oltre all'utile del 2021 sono stati presi da altri investimenti che dovevano essere realizzati nel corso del 2024. Il che vuol dire evidentemente che rincorriamo, abbiamo chiesto e chiudo che la priorità sia il sabbiodotto del porto di Via Reggio sia per ragioni economiche naturalmente sia per mettere i pescatori nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Il Consiglio regionale ha approvato gli indirizzi sul documento di programmazione strategica di sistema del Martirreno settentrionale finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'atto, approvato con 21 voti a favore, Partito Democratico e 10 voti di astenzione, Lega e Fratelli d'Italia è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente Lucia De Robertis. Un lavoro molto importante, io ringrazio gli uffici il lavoro della Quarta Commissione che ha permesso poi di portare in aula questo atto è la dimostrazione della qualità anche della proposta dell'analisi che l'amministrazione regionale mette in campo anche nel rapporto, nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture e questa, diciamo, speriamo sia anche una occasione per far sì che il Governo, il Ministero delle Infrastrutture, possa davvero passare dalle parole ai fatti. Faccio riferimento ad esempio ai soldi che sono stati tolti alle connessioni ferroviarie, ma anche a tutta un'altra serie di provvedimenti dove si riscontra una serie di impegni a parole del Governo e delle forze che lo sostengono e che si scontra invece con le stanze necessità dei territori che attraverso anche questa elaborazione dimostrano una grande precisione e soprattutto di avere le idee molto chiare. La Regione le idee chiare ce l'ha, ce l'hanno gli enti del territorio, l'autorità di sistema portuale, speriamo davvero che il Governo riesca appunto, come dicevo, anche in questo ambito di uscire da una sostanziale incertezza e essere molto concreto. È un piano strategico che deve fare l'autorità portuale del Tirreno settentrionale per i maggiori porti, in modo particolare riguarda alcuni porti dell'Elba, ma soprattutto Livorno e Piombino, sia per le aree contigue alle aree portuali, sia per i canali, viari e infrastrutturali principali, cioè ferroviari, nei confronti da e verso il porto rispetto all'interno della Regione. È quindi un atto strategico che presenta una conoscenza abbastanza dettagliata del territorio, ma che non è immediatamente precettivo, cioè non stabilisce l'utilizzo dei suoli, ma che dovrà poi trovare attuazione attraverso i piani portuali e attraverso l'attività pianificatoria dei comuni. Un passo avanti comunque per portare la Toscana nel terzo millennio anche dal punto di vista dei collegamenti da e verso il mare. Ripristinare i fondi per i comuni con meno di mille abitanti lo chiede una proposta di risoluzione della Commissione Aree Interne presieduta da Marco Nicolai. L'atto è stato approvato in aula a maggioranza. Capraia, Monteverdi Marittimo, Careggine, Sassetta, sono 20 i comuni della Regione Toscana sotto i mille abitanti che il primo gennaio del 2024 si sono trovati una brutta sorpresa da parte del governo Meloni, che ha deciso nella finanziaria di tagliare un fondo che era stato istituito nel 2019 per sostenere gli investimenti sulle strade, le scuole, la manutenzione del patrimonio comunale, gli interventi sull'efficientamento energetico di questi piccoli comuni che tante volte hanno territori molto estesi e che hanno veramente difficoltà nel realizzare interventi anche minimali. Era un fondo che, istituito nel 2019, era sempre aumentato negli ultimi anni e che dava a questi comuni circa 85 mila euro l'anno. Fondi che all'apparenza, magari come Firenze, sono poca cosa, per un comune di piccolissima dimensione invece sono fondamentali. Era un pano pluriannale, quindi i comuni avevano fatto un affidamento, quindi anche una programmazione, taglio del 25%, da 85 mila euro a 50 mila euro e un taglio non solo nel 2024 ma anche nei prossimi due anni. Una scelta che per noi è del tutto incomprensibile e sbagliata perché una volta che lo Stato centrale aveva deciso di intervenire a favore di questi enti, sinceramente, tagliarlo, indipendentemente dalle questioni politiche, a noi ci pare una scelta totalmente miope. La Toscana con questo atto chiede al governo di ritornare sui suoi passi. La mountain bike è il territorio cortonese, un binomio che torna ad essere protagonista del ricco programma di gare della Baccialla Bike. È in calendario per domenica 10 marzo la ventunesima edizione della gara ciclistica che è stata presentata in conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Non mancano le novità. Quest'anno per la prima volta riusciamo noi ad organizzare una gara nel territorio nazionale come prima edizione, una gara e-bike. Cioè abbiamo pensato di promuovere, oltre che la classica manifestazione che è composta dalla gara a gran fondo, percorso classiche e anche cicloturisti, quest'anno proponiamo anche un percorso e-bike. Inoltre, sempre la ventunesima edizione, facciamo il sabato una gara per gli esordienti allievi e i giovanissimi, come consueto. Questa viene fatta quest'anno però all'interno del nostro Bike Park di Società S di Ciclismo Toronto. Un appuntamento immancabile quest'anno legato anche al circuito Maremma-Tosco-Laziale e all'MTB Tour Toscana. Quindi è all'interno di circuiti molto importanti che dà ancora più lustro al territorio cortonese. È legato anche ai giovanissimi, ma anche ai bambini delle scuole, perché l'ASD Ciclismo Toronto ha coinvolto anche il circuito, il comprensivo Cortona 2 di Toronto. Lasciatemi dire che oggi sono particolarmente soddisfatto perché gioco in casa, perché sono un terontolese, quindi proprio della frazione dell'ASD Terontola Ciclismo, che organizza da anni una manifestazione veramente importante. Importante perché riesce ad attrarre veramente tanti ciclisti, professionisti e direttanti. Importante perché riesce a svolgere questa manifestazione in un territorio naturalistico straordinario, che va dalle colline cortonesi fino a praticamente il lago Trasimeno. Questo è il senso di questa manifestazione, che è aperta a tanti, tanti ciclisti che vengono da ogni parte d'Italia. È vero. Grazie agli sforzi straordinari dell'ASD Terontola Ciclismo siamo arrivati alla ventunesima edizione. Lasciatemi dire con grande soddisfazione che quest'anno è la prima volta che viene concesso il marchio del Consiglio regionale per questa iniziativa. Quindi il Consiglio regionale che ancora una volta, lo ha fatto tante volte, è concretamente vicino alle iniziative del territorio. E questo è determinante per fare bene per Cortona, per Arezzo, per la Toscana. Due i percorsi nei quali si confronteranno professionisti e dilettanti il principale di 45 chilometri per 1500 metri di dislivello tutto su fondo battuto e quello classic di 28 chilometri per un dislivello di 900 metri. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia e attenzione vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie per la visione!